Come è nato la filiera dell'Addity Manufacturing per parti metalliche? E ha trovato in AFIL e nei soci AFIL i partners per poter sviluppare un progetto che copra tutta la filiera e quindi anche quelle competenze che non sono intrinseche in Tenova stessa. C'è un coinvolgimento delle piccole e medie imprese, dei centri di ricerca, degli RTO dell'Università di Milano, dell'Università di Pavia e anche di altre grandi imprese che hanno come core technology la stampa vera e propria, quindi la tecnologia laser per la stampa di cui ovviamente Tenova non è detentore. Grazie 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 Grazie